Un saluto ben ritrovati come è stato, un abbraccio a tutti, una buona serata, andiamo a commentare le ultimissime, il giorno dopo la sconfitta del Milan contro la Juventus, è momento ovviamente di riflessioni ma anche di ripartenza perché dopo domani, più o meno a quest'ora, il Milan scenderà in campo contro Paris Saint-Germain con zero gol fatti, soltanto due punti dopo due prime giornate di Champions League. C'è una brutta notizia purtroppo che riguarda Loftus-Cic che difficilmente sarà della gara mercoledì, sicuramente non dall'inizio ma molto 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 probabilmente neanche della panchina e l'assenza di Loftus-Cic sembra poter pesare. Ci saranno dei cambi, sicuramente ci sarà Mignani in porta, ci sarà Teo Hernandez di rientro, dall'altra parte Calabria contro Mbappé, giocheranno Tomori e Ciao che poi salterà la gara successiva con il Napoli in cui giocherà però Calulu, credo almeno che giochi Ciao. In mezzo al campo, allora, il grande dubbio è tra Delia e Krunic, potrebbe giocare Pobega, forse al posto di Musa con Reinders che potrebbe fargli straordinari anche se è sembrato un po' faticato. Per il resto Pulisic, Leao e Giroud che dovrebbe essere confermato anche perché le alternative non sono valide. Il grande peccato è che manchi Loftus-Cic, stando avanti da un po' di tempo, questo infortunio si era procurato prima della sosta, era di lieve entità, però adesso c'è un'infiammazione e questo è un problema che va risolto, ovviamente al 100%, un problema che sta creando un danno al Milan, perché Loftus-Cic è un centrocampista fondamentale per questa squadra. Ditemi che ne pensate, chi fareste giocare? Krunic o Adli? D'accordo per far giocare Pobega, mettere un po' di fisicità? Oppure no? Ditemelo qui sotto, scatenatevi, commentate e iscrivetevi qui ragazzi, arriviamo a 20.000 iscritti, ci manca poco, mi raccomando ci tengo, un abbraccio a tutti e una buona serata barra buonanotte. Ciao ragazzi!